Ciao raga! Ciao raga! Benvenuti in questo video! Oggi sono qui con il mio amore, con il mio fratellone, perché? Perché? Come? Tu non lo sai? Che cosa? Ma abbiamo fatto lo stesso video sul suo canale! Ah no! Perché quando è distratto non ti stavo ascoltando, scusami! Raga, questo è il continuo del video che è uscito sul canale di mio fratello, la 10 second challenge! È un degenero! Spiega in cosa consiste! È un degenero! Praticamente dobbiamo fare un'azione suggerita da voi su Instagram in 10 secondi! È difficile! Io sono stanca da prima! Se andate a vedere il mio video, subito dopo questo, ovviamente! Abbiamo fatto delle azioni tipo lavare il pavimento della sala in 10 secondi, fare mentare, disfare di fare il letto, percorrere tutta casa di corsa! Ma sono già stanca! Ma abbiamo corso nel tuo video! Sono distrutta! Cioè, pensavo già di andare a dormire e invece ce ne avete suggeriti altri! E non ci stavamo divertendo troppo a fare i video insieme! E infatti! Era da un po' che non ne facevamo, ma quando siamo insieme è sempre un casino! No, amore, mi vuoi bene! Certo che ti voglio prendere! Anch'io! Bando alle ciance, iniziamo a leggere le cose che dobbiamo fare in 10 secondi! Ok, vai, se iniziamo non è una a caso! Ok! Eh, ma così non è più una a caso! Che impaglione! Dai, 1, 2, 3! Oh! Ma dai, ho appena detto che sono stanca! Veronica! Veronica, sai Veronica, grazie! Grazie mille! Ci ha consigliato di entrare in tutte le stanze della casa di Luca! Della casa di Luca e Marta, ovviamente! Ma potevate avere una casa più piccola? È un palazzo! Eh, lo so, noi abbiamo preso un palazzo come casa, perché sennò dovevo spendere due cifre, anche Marta! Lei ha bisogno di uno studio per lavorare, io ho bisogno di uno studio per lavorare e quindi dovevamo prendere magari due uffici più la casa! Sì, ma adesso sono anche io che devo correre, capito? Va bene, dai! Ci sono, faccio partire? Ok! 3, 2, 1! Ok! Bagno! Corri! Vai, vai! Ciao! Cucina! Ok! Stai! Bagno! No! Basta! Qui c'è ancora a letto tutto disfatto! Dal video che abbiamo fatto prima! Vabbè, non ce l'abbiamo fatta fallimentare! Mancava ancora lo studio di Marta e la mansarda! E poi la taverna che è saltato! Quindi bisogna fare le cose fatte bene! Ma non ce la faccio! Che cosa? Ho il fiatone! Ah! Cosa faccio? Ah! Allora ti suggerisco io una cosa, è sopra Instagram, vai a vedere! Ora la scrivo! A volte! Dai ma! Non ce la scrivo, aspetta! Vediamo! Eccoci qua, è stato fallimentare! Sono stanca! Ma non possiamo fare una roba del genere! Sta cosa era da fare in casa mia che è un buco! Allora, cioè capito? Vai in tutte le stanze! Due secondi! Due secondi! Sono tre a stanze! E per qualche modo cerco di farla qui! Ah, che stress! Vediamo! Ma Luca! Bella! Bella! Amore! Luca mi consiglia di dormire per dieci secondi! Amore! Quindi dobbiamo dormire per dieci secondi? Sì, vai! 3, 2, 1, partiti! Dai! Diggia! Mi stava dormitando, lo sai? Diggia! Dai, vai le dieci secondi passati, basta! Cos'è che devo sentire? Che spiegato è questa! Spiegato! Dai, ma doveva durare di più! Dovevamo fare one hour challenge! Mi sono rilassato in questi dieci secondi! È stato bello! Ciao Simo, come stai? Dai! Però adesso mi era venuta una certa! Bere una bottiglietta d'acqua in dieci secondi! Ma come facciamo? Dai! Ho visto dei video in cui ci sono dei tipi che la scacciano così e la riescono a bere! Sì, immagino cosa faccio io! Pronto soccorso! Mamma, già ancora tutto il bicchiere d'acqua che abbiamo bevuto prima! Lo sto digerendo! Ecco qua! Maleggiata! Che fare! E quindi veramente... Eh, aspetta, io l'apro già! Perché se no... Anche io l'apro già! 3, 2, 1... Partiti! Ma come stai? Ma come hai fatto? No, raga! Stai male! No, mi arrendo! Questa è no, raga! Che sfigato! Hai voglia a continuare a bere! Ma sei pazzo? Non stai male? Non ho pensato... Sono più 16! Non ho pensato alle conseguenze! Però è acqua! Ma sei pazzo? Ma c'è la gente che lo fa con la vodka! Io ho bevuto questo! Grazie Simone Totaro! Grazie a tutti! Ok! C'è una casuale... 2706 LIDE! Lavarsi i denti in 10 secondi! E partiamo da qua! Ma sapete che c'è un problema? Che cosa? Che io non ho portato lo spazzolino da dentro! Non ho portato lo spazzolino! Eh, no! Quindi come fanno tutte le persone! Quando si ritrovano in giro... Usa il dito! Ok, va bene! Faccio partire! 3, 2, 1... Vai, partiti! Vai, vai, vai! C'è il marchi ingegno per lavarsi i denti! Che caccia! Dai! Vai, vai, vai! Stai, vai! Vai, vai! Oggi ce l'ho avuto il suo azione! Ma ho provisato! Sei zitto! Luca, ce l'ho lo spazzolino! Una casa mia, sapete com'è! Ma che caccia mi sto lavando le mani! Che fatica, raga, su video, eh! Sto stanca, mamma! Dai, ne mancano poche, però! Forse, non lo so! Andiamo, andiamo! Come è successo i miei capelli, vero? Ho un cornino in qua! Prima te li ho tirati! Ah, è vero! E' che mi è successo! Ma cosa ci suggerite di fare? Ce l'abbiamo fatta! Non completamente! Però adesso ho l'alito bello fresco, vero? Che scende! Ok! I fratelli l'attenzio! Tadadadam! Oh, mamma mia! Ma dai, come facciamo questo? Beatrice Amadi? O A... Beatrice Amadi? O Amadi? O Amadi? Vabbè, ciao Beatrice Amadi! Ciao Beatrice! Cucinare della pasta! Ok, però partiamo da Naki, se non ce la facciamo! Ok, andiamo di là! A tra poco! Cucinare della pasta! E' impossibile! Ok, ci siamo! Dieci secondi! Io metto l'acqua! Ok, io mi procuro la pasta, intanto accendo il gas! Ok! Partito! Ok, faccio partire! 3, 2, 1, partiti! Ma capi, è lento! Vai, vai, vai! Non serve tanta, non serve tanta! 3, 2, 1, via! Ce l'abbiamo fatta! Più pasta! Ma tu sei serio? Aspetta, questa cerco di recuperarla che... Si, questa si recupera infatti, perché noi non sprechiamo! Anche queste cose, noi ce le mangiamo, quelle a terra! No, è vero, l'altro giorno mi ha causato un gamberetto a terra e l'ho mangiato! A casa mia! Se sei a casa, è una casa pulita! Eh, infatti! Perché no! Questa è una delle poche sfide che siamo riusciti a fare! Eh, infatti! Sì, la pasta non si è cucinata, però ce l'abbiamo fatta! Invento c'era! Oh, ma ha già sistemato tutto! Ma sei bravissimo, amore! Grande! Perché? Sono abituato a fare casino! E se uno vuole... Questi da buttare! Se uno vuole fare dei casino, deve essere anche veloce a sistemare! Davvero! Nanna! Vi siamo mancati! Avete visto che bravi, abbiamo preparato da mangiare! Ce l'abbiamo fatta! Più o meno! Ma ancora? Ancora? Eh, ancora! Cosa c'è? L'ultima! Bella questa! Aspetta, però mi devo organizzare, mancano i fogli, mancano tutto! No, quello è un calendario! Aspetta, eh! Agrivo! Ma dov'è? Luca! Andiamo a dormire! Cos'è che sta dicendo? Gaia! Gaia B28 ci suggerisce di fare un ritratto dell'altro in 10 secondi! Facile! Bello! 3, 2, 1, partiti! Fatto! Ma il mio non si vedrà mai! Il mio è questo! Il mio è bello! E il tuo? Inclinano! Come fanno a vedere? Non si vede! Allora lo ricalco col pennarello! Ricalcano col pennarello! Col tuo pennarello! Poi votate voi, raga! Ma in 10 secondi questo si può! Ma se io ti ho fatto pure la camicia! Ma tu mi hai fatto uguale! Fa vedere! Ma sono un uomo! No, raga! No, non sono riuscito a fare i capelli per quello! Vabbè! E guarda te! Ah, è uguale! Hai vinto te! Luca dice che è uguale! Ho vinto! Cos'è che ho vinto? Il tuo ritratto! Dai! Ma sono un uomo lì! Guardate! E perché mancano i capelli? Ma tutto! Ma tu come hai fatto a fare tutta quella roba in 10 secondi? No, ho sforato di 2 secondi! In 2 secondi ho fatto la maglietta, vedete? L'hai fatta velocissima, brava! Non hai visto che brava? Bellissimo! Questo lo appendiamo in camera di Marta! Sorpresina, regalino! Comunque abbiamo finito le sfide! Ah, abbiamo finito, basta! Eh, basta! Cioè, abbiamo corso di qua e di là l'acqua! Ok, ok, ok! Se volete vedere altre sfide potete andare sul mio canale che... La challenge continua anche lì! Ma lì abbiamo corso il triplo! No, no, non potete capire! Su, giù, su, giù, guarda! Mi sono divertiti! Bello, amore! Spero che vi state divertiti anche voi! Se così fosse, raga, lasciate un like! Adesso non ti devi più staccare! Dai, lasciami! No, ma scusami! Dobbiamo recuperare il tempo che... Che non abbiamo passato insieme, capito? È vero! Ok! Raga, e quindi, cliccate like se vi è piaciuto questo video! Andate a vedere il video di mio fratello perché anche lì abbiamo fatto delle azioni in dieci secondi! Un casino! No, ma ci sono delle scene che mi fanno morire! Non potete capire! Nei commenti scriveteci delle azioni da fare sempre in dieci secondi! Che noi magari le prenderemo per un altro video! Esatto, ma no, ma per forza di è! È quindici secondi! Eh, no, è così la sfida in dieci secondi! Noi adesso andiamo! Bacio! Ok! Ciao! Ciao! Ciao, raga! Ciao!